Monteverde continua ad incassare riconoscimenti e successi che ne fanno uno dei borghi più belli d'Italia. Con soddisfazione e grande orgoglio il primo cittadino presente il suo comune come uno dei balconi più importanti dell'Alta Irpinia. La Valle dell'Ofanto è oggi un itinerario culturale e dal 2003 un progetto di archeologia dei paesaggi dell'Università di Foggia cerca di ricostruire processi di trasformazione dei paesaggi agrari e la storia dell'insediamento umano in rapporto all'ambiente. Una cosa che ci ha inorgoglito molto è stata abbiamo partecipato con l'Unione Europea al paese più accessibile d'Europa e il 4 dicembre andiamo a ricevere questo ambito premio che è un premio che era a tutta la comunità di Monteverde che in questi anni ci ha sostenuto in questo nostro progetto e quindi mi sento di dire questo perché oltre alla collaborazione di tutta l'amministrazione del vice sindaco in modo particolare va riconosciuto all'intera comunità tutti gli sforzi e sacrifici fatti in questi anni. Del territorio naturale di Monteverde inserito nella comunità montana zona alta Irpinia fanno parte il lago artificiale San Pietro e il fiume Ofanto con il suo affluente di sinistra Losento. Si tratta di un sito di importanza comunitaria al pari del bosco Zampaglione, altro tesoro naturalistico. Intanto a condividere la soddisfazione del successo di Monteverde anche la presidente del consiglio regionale Rosetta D'Amerio che ha sottolineato l'importanza dell'assegnazione di un altro importante riconoscimento a Monteverde dell'Access City Hour 2019 da parte del commissario europeo per l'occupazione, affari sociali, abilità e mobilità del lavoro. Noi abbiamo una storia, una cultura, poi c'è Matera 2019, noi siamo a un'ora di macchina, quindi siamo messi bene per questo grande evento che aspetta Matera nel 2019, noi siamo vicini, abbiamo tutta una storia, una cultura da mettere in gioco, il nostro castello è appartenuto alla grande famiglia storica d'Italia, fra cui e non solo, perché è stato pure il nostro maniero, è stato pure la signoria del Principato di Monaco, quindi teniamo un bel po' di cose da mettere in gioco.